Bianca Villa piange padre Salvatore Nicoletti, morto sabato sera dopo aver celebrato la Santa Messa nella parrocchia dell'Idria. Padre Nicoletti si è accasciato nella sagrestia di quella che per oltre tre decenni è stata la sua parrocchia. A stroncargli la vita un malore improvviso, inutili, tentativi dei sanitari del 118, giunti sul posto di strapparlo alla morte. Padre Salvatore Nicoletti, 79 anni, è stato un sacerdote stimato e voluto bene per la sua sobrietà e perché non perdeva mai occasione di evangelizzare la parola di Cristo e catechizzare alla fede. La comunità religiosa di Bianca Villa piange la scomparsa di un uomo che ha abbracciato la vocazione da grande ma che dalla parola di Dio non si è mai separato nemmeno per un istante. Vice parroco della Basilica Santuario, Maria Santissima dell'Elemosine e canonico della medesima collegiata, padre Salvatore Nicoletti dal 1982 al 2019 è stato lo storico parroco della parrocchia dell'Idria, dove ha introdotto tra l'altro il cammino neocatecumenale. Bianca Villa dunque piange un sacerdote che ha segnato per oltre 40 anni la vita cristiana in città. Oggi pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù si sono tenuti i funerali di padre Nicoletti celebrati dal vescovo di Catania Monsignor Luigi Renna, dal clero di Bianca Villa e da Monsignor Salvatore Cristina alla presenza di istituzioni e di tanti fedeli che gli hanno voluto rendere l'ultimo meritato saluto.